Partiti a Forte La Pianese nei primi dieci minuti, sapevamo chi andavamo ad affrontare, loro hanno avuto un buon approccio, hanno un bel gioco. Noi passati dieci minuti abbiamo preso le misure e abbiamo iniziato anche noi a fare gioco. Si sapeva che era una partita che si puseva a decidere su un episodio, però io penso che oggi chi è venuto allo stadio si è divertito perché ha veramente visto la classica partita da categoria dove due squadre si affrontano, si rispettano, però si affrontano con la giusta determinazione e questo è quello che abbiamo visto secondo me in campo. Grazie a tutti!